Signora, su, 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 signora, su, la vita continua, signora. Lo so, lo so che la vita continua, ma quando la sorte si accana contro noi creati umani, non possiamo sopportare. Eh, lo so, avete ragione, signora mia. Chi era? Vostro marito, quello? Era il mio terzo marito. Avete avuto tre mariti, signora? Tutti morti. Tutti morti? Il primo aveva mangiato i funghi velenosi. Anche il secondo aveva mangiato i funghi velenosi. Anche il secondo? Signora, mica pure il terzo ha mangiato i funghi velenosi. Non li voleva mangiare. E se non gli avessi dato una mazzetta nella capa così, mica moriva. Non moriva.